Violenta rissa ieri sera intorno alle ore 19 davanti al bar Zanzibar poco prima del quartiere della Tombaccia lungo la strada che porta a San Costanzo. Due uomini di giovane età di nazionalità albanese per motivi che al momento non sono noti si sono affrontati nel piazzale antistante al bar che ospita anche un distributore di carburanti e ne è scaturita una violenta colluttazione. Come ci ha riferito il titolare del bar presente al momento della rissa con la commessa del turno serale, osservando la scena dall'interno del locale è uscito fuori nel tentativo di separare i litiganti ma visto che i due non accennavano a calmarsi ha pensato bene di chiamare i carabinieri di Fano che dopo pochi istanti sono arrivati davanti al locale con due pattuglie. I carabinieri però a loro arrivo hanno trovato sul posto solo uno dei rissosi con alcune tumefazioni al volto. L'uomo è andato al pronto soccorso dell'ospedale di Fano in codice bianco e dopo un paio di ore di attesa però si è allontanato volontariamente senza nemmeno essere visitato da un medico e senza nemmeno sporgere nessuna denuncia ai carabinieri di Fano.